RTM e Sport Picciano Game presentano l'intervista di Pietro Ospite della puntata Siamo con Elisabetta Sgarbi, la milanesiana di Nuova d'Ascoli un progetto che sta crescendo, è diventato molto importante e soprattutto una grande vetrina per Ascoli ma soprattutto per l'Italia Una grande soddisfazione essere qui a Ascoli, una città meravigliosa ma meravigliosa anche per il calore del pubblico perché abbiamo cominciato con uno spettacolo straordinario il teatro gremito il calore, gli applausi con Massimo Lopez e Tullio Solenghi continuiamo con Elio che canta i Annacci e poi domani avremo assolutamente l'inaugurazione di una mostra importante di cui tengo in mano il catalogo che è la mostra di Dialma Stultus curata da Vittorio Sgarbi, una vera scoperta e una vera rivelazione Vittorio sarà qui proprio con lo spettacolo in anteprima assoluta il nuovo spettacolo anteprima scoperte e rivelazione quindi siamo felici e chiuderemo in nome di un anniversario l'anniversario è i vent'anni dalla pubblicazione della misteriosa fiamma della regina Loana che sarà un musical straordinario chi partecipa poi avrà in omaggio la graphic novel di Milo Manara del nome della rosa quindi è un momento di festa per Ascoli in una città che merita tutto questo Una milanesiana che gioca con i colori, siamo passati dal rosso al giallo e adesso il verde, Speranza? Certo, verde Speranza è la rosa della milanesiana perché la milanesiana è dedicata al ritorno ma il ritorno è anche un ritorno alle proprie origini e all'ambiente una restituzione alla natura di ciò che noi le abbiamo tolto e poi la milanesiana è la festa dei colori guardi il mio vestito, rose, vestito è pieno di colori e c'è il verde che campeggia quindi viva la milanesiana Grazie e buon divertimento Grazie e buon divertimento alla città di Ascoli, grazie Siamo con Mario Andriosa, la milanesiana un momento particolare di cultura, di incontro con la cultura che è importante per questo periodo soprattutto Sì, mi pare che la risposta di Ascoli a questa proposta della milanesiana di portare spettacoli diversi tra loro, tra musica, teatro e dibattito sia un esempio veramente interessante e che vale l'impegno che sia l'organizzazione che i responsabili della milanesiana ci mettono La vedremo importante nel momento in cui partecipare a questo evento con un evento importante, un momento particolare In occasione di uno spettacolo musicale organizzato dal Teatro dell'Aquila ispirato al romanzo La misteriosa fiamma della Regina Loana io dirò qualche parola sul libro che è uscito vent'anni fa che è il romanzo forse più divertente, più fantasmagorico di Umberto Eco e sono curioso di vedere lo spettacolo intanto in breve prologo racconterò la storia di questo libro di Umberto Eco E quale sensazione proverà salire su un palco che davanti a dei giovani che probabilmente questo libro neanche lo hanno letto però si fideranno e ascolteranno le sue parole? Spero che le mie parole li incuriosiscano e abbiano voglia di leggerlo e quindi che diventino lettori di Umberto Eco RTM Sport Picciano Game Noi la ringraziamo e diciamo buon lavoro Grazie RTM Sport Picciano Game hanno presentato L'intervista di Pietro Ospite della puntata